Tempestiva la risposta del sindaco di Pescara Carlo Masci alle critiche dell'opposizione. Il primo cittadino smorza la polemica sul nascere. La minoranza contesta oggi interventi approvati con delibera consigliare numero 46 datata 17 maggio 2018. Si tratta del Masterplan Polo della Cultura e della Formazione, in cui si legge, nero su bianco, che lo scopo è quello di realizzare un polo dell'innovazione in luogo dell'attuale caserma di Cocco in Viale Pindaro. Nel prossimo incontro con Piante Dosi, previsto a settembre, sarà infatti definito l'iter degli interventi. L'acquisizione da parte del demanio dell'immobile che ospita la caserma dei Vigili del Fuoco, messo in vendita dalla provincia di Pescara che ne è proprietaria, e la sua immediata messa in sicurezza. Nel frattempo l'università si attiverà per procedere, in un secondo momento, ad acquisire la struttura per ampliare i propri spazi, delocalizzando così la caserma dei Vigili del Fuoco in un'area della città, posta ad ovest del rilevato ferroviario, come da delibera. L'area individuata dal comune è quella in via Lago di Campotosto, che sarà preventivamente sottoposta ad interventi di bonifica. Quella delibera è stata una delibera approvata dal Consiglio Comunale, ovviamente con il voto favoreore dell'allora maggioranza, e con l'astenzione dell'opposizione che eravamo noi, perché ritenevamo che quel progetto di rideterminazione di Porta Nuova fosse un progetto valido, tant'è che avevamo lavorato su quel progetto, perché l'opposizione deve proporre anche, e quindi lo abbiamo definito con la maggioranza. Cosa prevedeva quel progetto? Proprio quello che noi stiamo portando avanti, quello che l'opposizione definisce il piano Masci, non è altro che il piano approvato dall'attuale opposizione e dall'allora maggioranza, che prevedeva l'ampliamento dell'università proprio nella caserma dei Vigili del Fuoco e nella caserma di Cocco, cioè due progetti che erano giusti allora e sono giusti oggi, così come quel master prevedeva che la caserma dei Vigili del Fuoco si spostasse nella zona a ovest del rilevato ferroviario, cioè proprio nella zona che noi abbiamo individuato e per la quale stiamo portando avanti un'operazione che tiene conto delle esigenze dell'università e anche delle esigenze di una città come Pescara che deve avere una nuova caserma dei Vigili del Fuoco più efficiente e più performante. Di questo abbiamo parlato con il Ministro, che ha condiviso perfettamente la nostra idea. Mi dispiace vedere che chi oggi è all'opposizione e che allora era in maggioranza, allora ha detto sì a questi progetti, anzi li ha portati avanti e oggi dice di no soltanto perché c'è un'altra maggioranza. Questa cosa è triste.